Per noi sono importanti giornate come queste e siamo ben felici di prendere parte perché comunque rappresentano per noi un'occasione per toccare la realtà da vicino. L'attenzione dell'ordine dei giornalisti nei confronti dei bambini è estrema, ma purtroppo poi dobbiamo prendere atto che spesso e volentieri per una serie di motivi legati soprattutto alle nuove tecnologie, e spesso anche quelle che dovrebbero essere le buone regole della nostra professione vengono superate. Per quanto riguarda Telefono Azzurro ovviamente da anni stiamo procedendo in questo percorso affiancati, siamo ben felici ovviamente di portare il nostro contributo e in futuro non escludiamo di svolgere anche dei corsi di formazione rivolti ai giornalisti sul tema proprio dei bambini che vadano oltre anche proprio le regole deontologiche, ma per un discorso anche di responsabilità generale. Grazie a tutti.